Rieccoci, buon sabato sera a tutti voi da Marcus, seconda estrazione nel mese di giugno, si è appena conclusa, poche cose da dire, giusto giusto due minuti prima di andarmi a bere una bella birretta, allora arrivano il vertibile, quindi non c'è il 90 su Firenze e Venezia, stiamo a bere attenti a due situazioni, allora arriva il vertibile, c'è l'1 laterale, poi c'è la somma 90, guardate se c'era il 90 c'era l'ambo secco, perché la previsione, guardate, Venezia, vedete 18-81 abbinamenti per il 90, quindi se stasera è arrivato il 9, che peccato, se c'era il 90 c'era l'ambo secco, me lo avete detto in tanti questa cosa, me ne sono accorto subito anche io, situazione a Milano delicata, ho visto che c'è qualcosina che potremmo andare d'accordo quindi per il 90, quindi attenzione, sollecitato anche Milano, sollecitato Firenze per il suo laterale, sollecitata Venezia per la somma 90 e vi ripeto, somma 90 importante per Venezia, poi Firenze laterale e Milano, vedo qualcosa di bello e quindi attenzione, le tre ruote rimangono come vi ho sempre detto, Firenze, Milano e Venezia, per quanto riguarda l'unica previsione con il 90 che sto andando qua su YouTube, su Telegram secondo colpo, non c'è quella ambata, ma fa come vi ho detto ben sperare, perché se non è arrivato l'abbinamento importante su quella ruota dove è uscito il 13, quindi probabilmente si rifletterà su quella ruota, e quindi vediamo cosa andrà a finire, l'1 e 9, questo 1 e 9, ho visto i messaggi poco fa, sì l'1 e 9 è arrivato, il 9 è arrivato da Cagliari, l'1 rimbalzava Firenze e Roma, allora guardate c'è di nuovo il 2 su Palermo, attenzione, quindi il 2 e 7 potrebbe rimanifistarsi su Genova e Palermo, 2 e 7 abbiamo detto, e poi 4, 5 e 8 ovviamente Firenze e Roma, come vi dicevo i numeretti sono da seguire, ovviamente carta e pene vi segnate i numeretti che arrivano su quelle ruote, però bisogna dare importanza ovviamente che è la ambata contata, bisogna fare sempre in precedenza dove i numeri sono arrivati per primi, è vero che si stanno aggiungendo altri numeri, altri numeretti, è vero, però fate sempre riferimento a 5 e 6 dove ancora controllarlo, dovete fare riferimento, mi sono d'accordo adesso, su Milano, dovete fare riferimento a quei numeri che arrivano prima, e quindi quelli che arrivano dopo ovviamente avranno un'importanza seppur minore, però adesso poi logicamente, poi con calma lo andremo a rivedere, comunque come vi dicevo arriva il 9, 9.81, cavolina, perché la ambata contata risponde con i covertibili, quindi guardate dove è arrivato il 9, Firenze e Venezia, Milano è bella, occhio Milano perché dovrebbe arrivare adesso, ci siamo, allora Firenze, Milano e Venezia con il 90, sempre 18, 90, 81, 90 e Ambo Gioli 27, 90, come vi ripeto previsione Telegram, ancora avanti, era secondo colpo di gioco, andiamo di tempo a quella ambata, e ai numeretti 458 Firenze e Roma, e poi 27, comunque quelli sui numeretti che ormai avete visto nei video precedenti, ragazzi buon sabato sera a tutti, il file autodat l'ho aggiornato alla veloce, quindi tutto ok, l'ho controllato bene, le estrazioni sono giuste, quindi se volete scaricarvi il file, il link che ce l'ha, ce l'ha, e poi va di vedersi poi la tecnica delle somme totali, delle somme totali, delle ruote, perché lì c'è anche il link per scaricare il file autodat, c'è come si aggiornano, quindi il programmino, ok? Quindi se si ha il file per scaricare il programmino e il file per scaricare il file autodat. Ragazzi vi devo salutare, noi ci risentiamo domani mattina con un nuovo video, massimo domani pomeriggio sera, dai, ok? Un abbraccio e ancora buon sabato sera a tutti voi, ciao da Marcus!